Chi ha paura di Mario Draghi al Quirinale? I parlamentari preoccupati di perdere il vitalizio, senza dubbio, nessuno garantisce loro che un altro premier riuscirebbe a tenere in piedi la maggioranza e la legislatura. Ma pure tra i capi dei partiti che sorreggono il governo, inconfessata, sta crescendo l'insofferenza verso il personaggio che ha rubato loro la scena nell'ultimo anno e minaccia di farlo più per il prossimo settennato. Consentirli di portare avanti l'incarico attuale sino alla fine della legislatura e vederlo poi partire per qualche prestigiosa istituzione internazionale è il sogno segreto di tanti. I partiti, però, sono divisi tra loro e al loro interno. Non si intravede alcun possibile accordo su altri nomi e sapere che il successore di Sergio Mattarella sarà scelto con scrutinio segreto non rasserena. Lo stesso Silvio Berlusconi, per dire, non è affatto sicuro che, se la sua candidatura andrà avanti, i parlamentari del centrodestra voteranno davvero per lui. Da qui, il pericolo, e se alla fine Draghi fosse eletto con l'appoggio degli altri e non mio? Domanda che si stanno ponendo tutti. A nessuno piace l'idea di avere lassù per sette anni qualcuno che ha motivi per essere riconoscente ai tuoi avversari e magari pure ai tuoi alleati, ma non a te. Più degli altri, il problema se lo è posto Giuseppe Conte, che con il suo successore alla presidenza del Consiglio non ha mai ingranato. Proprio per evitare di essere sorpassato dal resto della comitiva, il capo politico dei Cinque Stelle, spinto da una combinazione di paura e opportunismo, ha annunciato che il suo movimento è pronto a contribuire all'elezione di Draghi, è prematuro, ma non lo possiamo escludere. Aggiungendo subito che, nel caso, andrebbe, avviato un confronto anche con le forze politiche di centrodestra, e che, ovviamente, non dobbiamo pensare che poi si vada subito alle elezioni.